ok ragazzi ho preso il primo ingrediente la macetonia candita che merda regà a me fa schifo prendiamo gli oreo quindi sono due ingredienti dolci guarda prendiamo questa ragazzi dovrebbe essere salsa indonesiana dovrebbe essere una salsa piccante regà dovrebbe essere quindi secondo ingrediente preso prendendo il patè questo è buono ragazzi questo è buono poter mandare bene poi mischia tutto il resto pensa che è cagata quindi noi quattro indietro presi vado a prendere le pizze e andiamo alla cassa sono andato a prendere il carrello perché non ce l'avevo prima questo non lo so pizzo che non so che roba è e poi la bellezza di questa cosa a limone a lime anzi una parmellata a lime sulla pizza ci deve stare molto bene e ora prendiamo un altro ingrediente dolce un altro salato molto cazzo erbudino alla soglia mamma mia una bontà l'ultimo ingrediente la salsa perché babbara lo trova quattro ingredienti no però sta roba che vedo è troppo buona devo trova qualcosa di credo di aver trovato qualcosa ragazzi ce l'ho il latte di cocco questo dovrebbe essere questo dovrebbe rientrare negli ingredienti dolci l'ingrediente dolce l'ho visto prima che stava all'inizio del reparto c'è proprio vicino alle casse però quello lì lo prendiamo dopo perché abbastanza ingombrante come una ampolla ragazzi dopo la faccio vedere adesso cerchiamo il salato fermi tutti fermi tutti fermi tutti andiamo a vedere quello che posso comprare chissà ne che hanno comprato l'articolo secondo me dex ha comprato tipo i fagioli cose del genere posso comprare qualcosa che fa schifo allora mentre io stavo a camminare ho deciso che non posso prendere un cose piccanti quindi prenderò gli alapegno o yogurt senta per favore buon uomo a me mi dà delle acciughe malinate per fuori un etto queste qua grazie lei è veramente gentile ma le vai due a pescare quello che sto così buone allora poi ho finito è dato che giocer mi ha mandato che i sordi contati anche a volerlo ma sovanzati 20 centesimi incredibile signori ci vediamo a casa ma cia ragazzi bene ritornati da posso ci sono tanti ore salditi siamo tornati ragazzi su uno speciale finalmente quello degli 800 mila iscritti ragazzuoli ma anche ragazzuoli siamo qua come stai vedendo con il pizza challenge allora come avete visto precedentemente a questo intro siamo andati a comprare dei prodotti da mettere qui sulla pizza abbiamo preso quattro prodotti a testa due salati e due dolci quindi ragazzi adesso noi dentro questo bicchiere ci sono dei numeretti da 1 a 16 e equivalgono ai 4 ingredienti presi incredibilmente credibilmente ovviamente abbiamo perché siamo youtuber 4 4 8 8 8 16 ma chi non lo sa la matematica è matematica fermi tutti per questo speciale 800.000 quanti like che vogliamo super iniziare 700.000 7 like 800.000 dislike ah ma grazie ok puoi aprire si apriamo no 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 non tutti insieme ah ok adesso andiamo per se con chi c'ha più scritti dopo ciccio quindi io e te siamo l'ultimi eh vabbè siamo all'ultima roba da cia ma che tanto pure se sei il numero in realtà vai prendi il numeretto perché prima ci stanno gli ospiti si ultimo one shoot three one shoot three e questo prendo io sono pronti vai vai allora ovviamente in comincia ad essere io ho il numero ooo 9 o 6 no no è un 9 è un numero 9 è un 9 io ho l'infinito merco c'ha all'otto e io ho il 14 e io ho il 10 Tott ti ha capitato signori io ho ripreso il mio oh no 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 aspetta fermi tutti abbiamo preso ognuno di noi corrisponde il pacco ragazzi probabile che ci capita anche che stesse allora una premessa una premessa io sapendo sapete no ho preso una cosa piccante se l'ho ripresa cazze mia non ci credo però eh allora apri Dexter vai Davide la tua busta Fa pure strapparla a sti gatti Stai calmo però eh C'è in serio che sbrocca sta busta? No Il budino valsoia L'ho preso io L'ho auto comprato Si è auto comprato il budino valsoia Quindi dopo di mettere tutto l'ingrediente No 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 rega Ah no non è roba mia Attenzione chi è il bastardo Allora ha detto un ingrediente dentro ci stanno Olive I capperi, i disegni Eh caro E' un'altra cosa Eh eh Intasci tu Magari le becchie al mio Che faccio scattare Dai se le becchie al mio va bene rega Oh no Questo l'ho preso io Ma questo è impacchettato No questo l'ho preso io Un regalo di Natale ma che è Eh si ti ho fatto un bel regalo di Natale No lo sapevo No rega Ciao Tim Che cazzo che so Alice, acciughe che so Alice di noso Sardine noso comunque Eccoli signore Ho preso io Te lo bagli con tutta la cazzo Ho preso il mio stesso ingrediente Oreo signori Oh c'ho l'uno rega Io il due Io il tredici Io il sette Vorrei il due per favore Ingredienti Sa merda No No quello è piccato a me Allora Dex e Raffi Quello è piccato a me capitale No Che cazzo c'è Ma 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 che cazzo c'è Vabbè io ho quanto placement E il patè E il patè Age i quali Riomare Ah Dio De Faccio così Riomare Ah Ma questo è la salsa Che dicevo io Che cazzo Salsa indonesiana Buona c'è l'anici C'è l'anici Spettacolare Salsa piccante Ma che cazzo cazzo Mannone So pepericini sani Ah La delizia Ma che cazzo 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 Ah la peignos Giusto perché io ho il piccante Vero è mortacci tua te lo hai aprivo due da qualche settimana terzo ingrediente per uno ragazzi eh terzo ingrediente eh più che tulla io lo voglio numero tre per quattro non ti parlo undici dei rossi a me basta che non mi ricapita il mio chi è che ha preso questo ma che ne sono che sei rotto il tavolo questa è roba mia raga ahhh ahhh la salsa del che babbaro mamma mia sei dei pezzi di merda che cazzo è sta roba quella ho presa io i pizzoccheri alla vantellinese con brano saraceno senza litini ma che roba è ma questa vanno bollino i bracci tu sta de gatto sta de gatto no la voglio mangia mangia che cazzo è mio che cazzo è e leggi sopra taccino adesso ma che noia candita questi vanno bolliti la che è quella che cazzo è giusto perchè io provo prende un piccolo ingrediente e sottetuto tranquillo un chilo di pesca e sciroppate e ce la devi mettere tutte c'è la madonna eh quant'è le goci a me rimane l'ultimo ingrediente sceghi bene vai che numero c'hai 12 6 15 5 ma porco tu è il mio ma per poi ma per poi mi dà che è capitata una cosa mia vai apri apri mi sembi Baffanculo! Oh, raga, io mi sono fatto la pizza da solo! Ma mi stai capire? Che ho preso io! Che cos'è? Eh, marmellà! La marmellata di lime! Io ho ripreso la pizza! Ah, ecco! Io ho ripreso quello mio! Ma che ho preso? Ma che è? Ma che è? Oh, io ho tutto quello con la crema... Quella che c'è oggi più strato di yogurt! Quello che... Quello che... Te l'ho preso da solo quello? Sì! Adesso, io direi da condire pizze! Questi sono i ingredienti di Sodin! Belli! Questi direi! Qui abbiamo qui! Ma hai soccite da solo! E queste ciccio! Ah, basta! Sei cabolo! Belli e abbondanti! Piano! Mamma mia! Che bello! Mamma! Queste le fanno a condite, raga! Io come lo dico, eh! Che schifo! No, piano, piano! Che fai! No, 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 no! Non lo sapevo! Lì, io lo... No, no! Guarda che ha fatto! Voglio il pezzo all'allentatore! Guarda che ha fatto! Voglio il pezzo all'allentatore! Sono ioli! Ha schizzato ovunque Sasha Dexter! Eh, oh, oh! Quando mi viene la schizzata... Eh, c'hai ragione! Ecco! Vieni, vieni, vieni! Fermate, è difficile! Vieni, vieni! Che c'è fatto, raga! Mamma mia! Vieni, vesti quattro boccate! Uno al centro! Cinque boccate! Vada, vada! Vai, perfetto! Cipolla! Vai, salsa che babbo! Vai, la metti, metti! Maaaa! Porca troia! Che fraganza! Tutti! Vieni, ti lascio! Eccola qua! La felice anzi destra! Vai! Prego, gatti morti! Ma questo va a bollito! Vai! Che cazzo hai con roccantini? Ma questo va a bollito! Che schifo! Raga! Madonna mia, raga! Ma raga, non so più pizze, so aborti! Si cascava un pisello! E schifo, raga! E poi la sto fa abbondante col tarci cosa! Non è che il senso che sto una... Mamma mia! Oh, una bella sganchera te, va te! Che? Faccio il cerchio, faccio il cerchio intorno! Sì, ti voglio un'oliva! Vai, Sodin, prego! Eccola, là! Cazzo sei a fare? Da che comincio, raga? T'ho paura d'aprirla! E' sce satana da te! Ok Io non so che salsa ti ho preso sodino, non giuro! Ho messo! Tutta, tutta, tutta! Tutta, sì, vabbè! E deve essere la base! Quella è la base! C'è ragione d'essere! Acca puttana! Io, eh, adesso, cara di meritano... No, no, no! Questa è sopra! Ha un po' di simetta adesso! È la ciliegina sulla torta! Ti metterai un po' di simetta con sopra un bel letto di piazzucche! No, quelle sono buone! Raga, guardate, guarda che bello stronzo! Bellissimo! Cotore di merda! Sembra la pappa dei cani! Mamma mia! Si, mentale, se ci stai guardando, ovviamente! Io e Dex siamo disponibili perché a noi piace la simetta! La propria! No! Gli dà sapore! Mamma mia! Mamma mia! Raga, ma ha sbiancato le sovracciglie! Aaaaaaah! Che schifo! Dai e me non scola, basta! Dai, butta! Chi s'è visto s'è visto! Butta, butta, butta! Dai, rovola! Aaaaaah! 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 Che schifo! Aaaaaah! A far codardo, eh! Io sto già sbrattato! Mi sto vomitando dentro! Ma io sto vedere la mia pizza! Non c'è la faccia! Aaaaaah! 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 Mortarcelo su pizza, oh! Oh, quelle di mo! Guarda quanto so belle! Prugne! Raga! Prugne! Prugne! Pesche sciroppate! Che fai di più? Oreo! Quelle tutte? A me non mi hanno! Sanno di culo di vecchio! A me non mi piace! Sai di che sa il culo di vecchio! No! Ah, la pizza mia sa il culo di vecchio! Non so come uscire da questa situazione! Guarda, guarda che gourmet! Metti, metti! Gourmet! Ma so unte, ste cose! E' perchè sono giuste! Aaaaaah! A me ha questa più cura! Ma so cornocciolo? Sì! Aaaaaah! Popo tutte intere! Ce le devi mettere tutte! Ce le devi mettere nero! Aaaaaah! Tu lo vanno bene! A messi co*****e sulla pizza! Speter Drago! Mi senti che lo toglie 3! Quei ci si apre nel bando, eh! Quella d'essere è un ritardo! Sembra una vomitata! No! Quella d'essere dopo se la prende tutta! Poi la tagli, da sopra! Ma uno! Non è finito! Hmm? Ha già mangiato! Ha già mangiato! Ha già mangiato! Mamma mia che bontà! Comunque la tua è la più bella! Allora! Questa è la pizza di Sodin! Grande! Questa è la mia! Guardate che... Che splendido cosa si chiama questo? L'antica Roma! Hai visto? Cioè... Un po' di... De sanpietrini! La mia si chiama... La vomitata per gatto! Ehi schifo! Ma come cacau! Quella ciccio! Quello cantini croccantosi! Si! La sua la chiamava la scrocchiarella! La scrocchiarella! La scrocchiarella! Allora! Ragazzi! Gli ingredienti sono stati messi! Sono stati scelti! Che merda! L'andiamo in forno! L'andiamo a far fuorci! Ci veniamo tra 5 minuti! Dai! Ok ragazzi! Eccoci qua! Dopo 5 minuti o meno abbiamo cotto le pizze! E ragazzi! Qualcosa di osceno! Allora! Io le faccio vedere adesso con la GoPro! Passo qui! Questa è quella di sonno in cotta! Ragazzi! Pussa! Da morire! La mia è sempre rimasta molto bella! Solamente ci sono gli Oreo che sono mezzi sciolti e vanno a 3.000 gradi farina! Insieme alla pesca! Alla bicocca il cazzo è questa cosa! Cioè! Quella è lui! La pareccia ha vomitato insomma un trichego! Non lo so che! La sua è la più bella! Quella è molle! Quella è molle! Quella dei miti! Quella ci c'è secca in culo sta pizza! Tu cazzo che si faccia così! Se no! Sto sempre là! Sto sempre là! Raga! Sembrate plato! Allora! Iniziamo! Un po' di... Che cazzo fai! Ma queste cose saltano raga! No raga! Quella cosa! Mi hai dato un bacetto! Eh si! Però secondo me sei stato fortunato! Ah! E che bacco! E che bacco! Ah! E' arrivato il che bacco! Però adesso è la maglia di tutti te! Secondo me! Secondo me è la maglia di tutti raga! Oh! Eh! Però il kebab che rovina! Oh! Le scena alien dalla panza! Però no! Voglio assaggiare il textra dopo! Si sente un po' kebab e un po' mozzarella che da fastidio col cocco erano dietro! Guarda che merda di pizza quello! Che uomo vero! Guarda che morso che gli ha dato! Blah! Ahahahahahahah! Io ho sentito in pravi. Che schifo l'hoха! Fa schifo! Eh si! c'è un'altra pochetta mi sei incollata mi sei incollata nella mezza è un pazzo stai vaguando allora alla vista possono sembrare carine e culose queste cose colorate che ci sono sopra la lì c'è la presa dai bel mozzico la pizza è carina il mozzico dai bel mozzico non c'è pensato gli è arrivata la smappa tutta insieme è schifo descrivici dai che è buona su c'hai i pazzoletti c'hai resti in soli bufomita è buono puoi un oreo guarda così potrei scureggiare un po' d'acqua dai per te no vai dai che la vado gula profondo mi chiamavano l'ha sentita di che sa no de cadavere però non hai mangiato la pesca ne hai mangiato la pesca è vero che prenderei un pezzetto te li tagliate no no non ho mangiato la pesca ciao vai pizzica pizzica anche la mia pizzica mi è arrivata tutta no ragazzi mamma mia merda totale io penso settimana ingeva il sapore della merda ammazza insomma da che un po' adesso no ragazzi solo quella di sodin che è la peggiore no ragazzi no ragazzi non è buona per cazzo e qua è lime che ti metti in culo normale che buona eh no basti per cazzo non è buona per cazzo vai vai no saldo di gatto me lo hai fan culo atto no 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 ragazzi no ragazzi è schifo mi è mangiato il gatto ma schifo ce l'aveva mangiato pure i figli sta a me a me è schifissimo regà non gliela fai a masticarla è buona non riesci a masticarla pensai che era una pappa che ha mettato la salivazione però io non mangio non è più mia che stai a fa Dexter è un pappi che stuposo no 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 è qualcosa di assurdo questa pizza mi prende pure un po' l'oreo dai l'oreo dai l'oreo fai che te da croccantezza è buona l'oreo 3 2 1 via è buona è buona lo so che è buona l'oreo pizzi sapete cosa ho provato pizzi a pia che bello che bello è la salsa palestinese indonesiana oddio pizzi che andavo fuori guardavo l'accio che Cristo Dio si vede nei commenti secondo voi scrivete qua sotto nei commenti chi secondo voi aveva la pizza peggiore anche basandomi sulle reazioni noi ovviamente abbiamo provate tutte ma ragazzi vi diciamo che comunque facciamo tutte alquanto schifo anche uno dei text era qualcosa di assurdo ragazzo ovviamente io spero che questo video vi è piaciuto mi raccomando arriviamo a 50 anche per il prossimo challenge di Cicci è distrutto puramente lo so mi penso non verrà mai più a trovarmi a casa come mai non mangio roba in più basta pizza la prossima sfida con Sotty nel piccante la prossima sfida con Sotty facciamo gli hamburger e piccanti di nuovo il grande ritorno va bene il grande ritorno è là proprio fermate proprio ragazzi 50.000 like passate anche nei canali in descrizioni quella sta approvando in questa malattia fa cagare ne hai capito ci vediamo nel prossimo appuntamento grazie a Sotty Dexter e Cicci e buona pizza a tutti ciao ragazzi